Salve, sono Manuela Emili, autrice del libro Io mi amo e ideatrice del metodo GM5. Il metodo GM5 è un metodo di ginnastica che è l'anello mancante fra il fitness e lo yoga. È un allenamento che possono praticare tutti, dai bambini agli adulti, anche le persone con lieve disabilità. È un metodo che è basato sull'allenamento del corpo fisico, del corpo energetico e del corpo mentale, che considera l'individuo come un'unità e che lo stimola a percepire e a sviluppare la consapevolezza. La consapevolezza che avviene attraverso l'allenamento alla presenza e allo sviluppo dei cinque sensi, che sono il canale attraverso il quale noi percepiamo il mondo. La prima parte dell'allenamento è basato sul corpo fisico e quindi si parte con degli scioglimenti focalizzati sempre alle articolazioni, poi un allenamento ai gruppi muscolari, poi un allenamento che è basato sui cinque riti tibetani e sulla ginnastica medica tibetana e questa è la parte del corpo fisico. Si passa poi al corpo energetico. Il corpo energetico è costituito dalle respirazioni, lo stiramento dei meridiani e la visualizzazione dei chakra. La terza parte dell'allenamento è il corpo mentale, che è costituito dal benedire, dall'intento e dal mantra, cioè benedire per allenare la mente a sviluppare un pensiero positivo verso chi ci avvicino. L'intento è allenare la mente verso la nostra necessità a realizzare qualcosa e focalizzare le nostre energie verso la realizzazione del nostro obiettivo. Il mantra è Io mi amo, io ti amo, io vi amo, con il quale si chiude l'allenamento. Grazie 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 Grazie